Impossibile non restare rapiti da un suono così rilassante e armonico. L'handpan, questo strumento che a prima vista sembra uno scudo da gladiatore, è accordato a 432 Hz, come i suoni della natura. La sua musica ha un effetto positivo sul corpo e sulla mente. Nella periferia nord-est di Roma c'è il primo showroom d'Italia, dove sono esposti tanti tipi di handpan, ognuno diverso dall'altro. Si possono provare, suonare e naturalmente acquistare. Giampaolo Battiloro, proprio come il loro marchio registrato, e Andrea Baldasseroni, due musicisti, se ne sono innamorati anni fa. Battiloro. Tutto nasce da una sottile lastra di ferro, ferro a basso contenuto di carbonio, generalmente definito ferro dolce. Lo step successivo è la lavorazione al tornio, per ottenere delle calotte gemelle. Successivamente queste calotte subiscono un trattamento termico, che è necessario, al fine di evitare la formazione di ruggine, e anche per dare maggiore sustain allo strumento. Dopodiché si creano con delle presse le note laterali, e la nota centrale è chiamata DING. Lo strumento ha anche questo foro nella parte inferiore, che è la cassa armonica, e questo foro viene chiamato GU. Lo strumento è nato nel 2000 dall'idea di due coniugi svizzeri, esperti nella lavorazione del metallo. Lo presentarono alla fiera musicale di Francoforte. Il successo fu enorme. Il risultato, per avere uno strumento interamente lavorato a mano, ci volevano anni. Anche loro si sono messi in fila, ma una volta ottenuto il loro strumento, che nel tempo ha preso il nome di Antpan, hanno pensato di farlo realizzare in casa. La lavorazione è lunga e complessa, può durare fino a 15 giorni, ma il brand Battiloro si avvale di un team di più artigiani italiani. Ha realizzato pochi mesi fa il sogno di aprire uno showroom per vedere e mostrare questi gioielli tutti made in Italy. Normalmente un pezzo finito richiede circa 40.000 colpi di martello a mano. Ogni nota viene appunto forgiata per circa 5 giorni per consentire allo strumento di essere stabile nell'accordatura e per avere appunto un equilibrio sonoro perfettamente armonico. Poi le calotte vengono incollate tra loro. Il costo può variare in base al tipo di materiale, alla precisione dell'accordatura, al numero di note, ma in media si aggira tra i 1.300 e i 2.000 euro. Lo showroom permette anche di cercare e provare lo strumento ideale, Andrea Baldasseroni. Essendo uno strumento costruito artigianalmente, ovviamente ognuno ha la sua piccola particolarità, che può piacere rispetto ad un'altra. Non solo uno spazio espositivo, ma un luogo dove diffondere la cultura dell'ANPAN, con laboratori e workshop. I laboratori che organizziamo all'interno dello showroom sono dedicati a due particolari categorie di persone che si avvicinano allo strumento. Uno è l'operatore olistico medio, che soprattutto desidera avere lo strumento per sfruttare il suono dello strumento e quindi andare a sfruttare la capacità di rilassamento dello strumento, che poi viene utilizzata nelle pratiche di yoga e meditazione. L'altro è il musicista medio, anche il percussionista. Essendo costruito in una scala già impostata, spiega Andrea, anche chi non ha una cultura musicale può avvicinarsi melodicamente a questo strumento. Se si hanno poi delle basi di percussioni, il risultato è incredibile. I ragazzi hanno anche organizzato workshop in asili pubblici e presto porteranno il loro ANPAN anche nelle carceri. Grazie a tutti!